Aggiungere al menu di Whatsapp la voce disattiva è così complicato? Nella vana attesa che ciò avvenga si può rimediare tenendo premuto sulla icona di Whatsapp, in modo tale da fare apparire il sottomenu, dove premere l'ai cerchiata che condurrà alla schermata informativa in cui il tasto termina permetterà lo spegnimento di Whatsapp. Fino a quando non lo si riaprirà, si risulterà irraggiungibili e non si riceveranno notifiche, magari per poter ascoltare in santa pace lo sciabordio delle onde. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse iniettare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. Grazie per la visione.